La caposquadra per noi non è un caposquadra, è un tango leader, un team leader, tango lima. Tango lima perché? Perché vuol dire l'alfabeto militare, alfa, bravo, charlie, delta, ecco, pochè troppo. T, L, tango, lima, ok? Invece, dentro la squadra ci sono due CS, caposquadra. Mettete quattro di là, poi quattro di là. Tango lima, come vi ripeto, è lì che si risparmia anche il problema della comunicazione, perché sennò si racconta tutta la tua vita per la radio. Addirittura, io consiglio sempre che solo il caposquadra con tango leader abbiano solo la radio. Il tango lima va all'interno, c'è il caposquadra, è più di lui il caposquadra, il caposquadra va via. Guarda qui là, è che quando io cammino, quando faccio la patuglia, io vado a cantare con la canzione del pupi. No, io vado qua, guarda lì, perché io so che lui guarda davanti, io guardo qua. Ok? Se io so che il mio compagno guarda di là, anche se no sono mancino, anche se no sono mancino. Ok? Io guardo qui. Io guardo qui. Ehi, guardo qui. Ehi, guardo qui. No. Stai defendendo. Io guardo qua. Mi cuenta. Guardo di là. Guardo di là, dentro. Pronto, di là. Pronto. Avanzate. Avanzate. Ehi, vai, vai. Fino al albero di là. Veloce, veloce. Fino al albero di là. Fino al albero di là. Ehi, ecco. Fino al albero di là. Fino al albero di là. Pronti. 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 Ok, avanza. Vai di là. Guarda di là. Guarda di là. Ehi, ecco. Ok? Puesto, signori, una prognazione in copia. Siempre con copertura. Come lo è di tua prima. Io non sono Ramos, non sono Chordegas, non sono mercenari. Ok? O mercenari due, uno. Lavoro in copia. Ok, signori. Una copia è come se un uomo solo. Si lavorano in cuatro, seremo un uomo solo. Ok? Sempre in copia. No volo uno. Sempre in copia. Parco, vinico. Io che sono dietro, ok? Io le dico. Vai. Vai? Ok. Fermate lì. Io lo copro, lui. Ok. Stop. Ok. Mirai, pronto. Pronto. Vieni, falte. Vai. Vai. Ecco. Fermate lì. Ok, pronto. Pronto. Vai. Ecco. Vai. Ecco. Vai. Buono, che chiamo un po' del biliardo. Fermate lì. Pronto. Ok. Fermate lì, la dico, fermate falte. Fermate qua. Fermate qua. Vabbiamo, liate qua. Ah, sì. L'avete visto? L'avete visto che lui utilizza la mano débole per dire il top. Non è che io, ma sempre il fucile è un pugnato. No, ma forte. Posso sparare. Questa è una pala di biliardo. Ok? L'avete visto che lui utilizza la mano débole per dire il top. Viene l'altra. Viene l'altra. Ok. Rilevo. Inizia l'altra. Rilevo. Inizia l'altra. Qual è il biliardo? Ok? Adesso? Vieni al palco, vieni. Quella è una. Il fucile è un'altra. 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 Perché lui deve guardare sempre il suo compagno. Lui deve guardarlo sempre anche lui. Ok? Questo si chiama livello. Perché? Avanza Falco. 10 metri. L'avito avanza. Fermati. No, fermati ma coprendoti. Coprite, coprite. Coprite un albero. Pronto? Pronto? Avanza. Al stesso livello è lui. Eccoci. Quello si chiama livello. Scusate? No, io credo che devo metterlo sparando. Ok. Tutti volano venire. Signori, questo si chiama livello. Ok? Funziona sempre. Adesso lo faccio vedere solo. Adesso lo faccio vedere. A uno solo. Funziona anche in due, in quattro. Trinze, viene qua. Trinano, mettete lì. Mettete lì. Per farlo vedere. Mettete con lui. Ok? Lavoriamo in copia, come abbiamo parlato prima. Ok? L'avito, avanza. Vai, mi sembriano, vai. Vai, avanza come lui. Come abbiamo a vero. Pronto? Pronto? Ok. Avanzate voi. Eccoci. Al livello. Al livello. Ok, guardate. Se lavora sempre in copia. Che stessa cosa lo fa in tre. In quattro. Cinque. Ok? Venite voi due qua. Mettete in linea di là. Ecco, vai. Veloce, veloce. Eccoci. E si avanza così. Ok? Ok. Pronto? Ok, falco. Falco. Faccio vedere l'ultima. Ok? Faccio vedere l'ultima. Vediamo. Un po' 5 minuti. Vale. Faccio vedere l'ultima. Faccio vedere l'ultima di questo. E' pieno. Faccio vedere l'ultima di velo. Questo si chiama... Al forpasso. Ok? Al forpasso. Falco, lavico. Mettetevi là. Ok, lavico di là. L'albero. Allora. Guardando di là, ok? Questo si chiama al forpasso. Perché? Falco, manda fino all'albero di là. Alanza. Pronto? Lui non andrà a livello. Eccoci. Vai. Minimo 10-15 metri. Ok. Eccoci, vai. Fermateli. Pronto? Ok. Così guadagniamo terreno. Eccoci. Pronto? Guardate, aspetta lì. Guardate. Guardate i signori qua. Sì loro. Sì loro. Loro. Vedono che non si può fare. Facile. Io faccio... Tu che faccio? Fale biliardo. Vieni. Ok. Vai. Eccoci. Fale biliardo. Ecco. E se cambia? Ok. Qua? Non si può passare. Ok. Non si può passare. Ok. Guardate, le dico a mio compagno. Ok. Falco. Faccio a livello. Faccio a livello sinistro. Ese è il livello. Ese è la linea. Eccoci. Pronto? Eccoci. Guardate e cambia. Ok. Pronto? Eccoci. Pronto? Vai, ce ne andiamo, ok, pronto, vedete questo, cambia, cambia sempre, sono tre cose, ok, formiamoci, ok, sono tre praticamente, poi li vieni, ti sei ucciso, arrabbiamoci, dai, arrabbiamoci, devo ricaricare, vai, no, ci stiamo aspettando, ci stiamo, avanti, vai, iniziamo, forza, vai, 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 come stanno facendo loro, vai, uno, poco, uno avanti, vai, avanti, 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 av tango 30 metri davanti a me albero tango 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 stai arrivando da lì tango 30 metri davanti a me albero preso 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 l'abico e grizzly presi e si ma serve che poi gli altri tornano a curare non abbiamo nessuno vicino dovete curare i feriti ragazzi l'abico e grizzly preso 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 pres copritevi vi hanno visto colpito ok ok due tango sotto albero qua preso preso di rimbalzo preso di rimbalzo ok l'avete preso mi tocchi albero giù giù preso di nuovo porca troia stai coperto grizzly il mio caricatore ne ho uno appostato lì volevo tirarlo via vedi se riesci a tirarlo giù prima eh devi venire alla mia postazione copriti col col mio albero vai nell'albero vai nell'albero non mi curare vai non mi curare dovresti vederlo se ti sporgi alla sinistra dell'albero vedi ti tira lui che ti ha visto dammi una toccata dammi una toccata con la mano ok ok a posto tieni quella posizione senza esporti troppo e mi sa che è difficile resto qua o mi sposto l'acqua resto qua con voi o mi sposto l'acqua se qualcuno cercasse di fare un blitz ma è difficile sinistra sinistra gente mi stanno battagliando eh? mi stanno battagliando eh? mi stanno battagliando ma credo non si è riuscito a prendersi se è libero si si lei è libero 6 minuti ho preso ho preso però ho preso deve essere vicino ho preso tieni a posizione grizzly prendo prendo stiamo tutti in linea sparando tutti in linea sparando ok felici vi sto filmando non sto sparando bisogna spara un colpo io sono preso qui presi tutti e tre presi tutti e tre feriti ma sono tutti morti noi tre sei c'è qualcuno c'è qualcuno anche a destra guardate eccolo lì non l'ha sentito nessuno tutti presi dai la bandiera aspetta aspetta c'è qualcuno dietro c'è qualcuno dietro forse preso preso tutti insieme ragazzi la difesa tutti presi ah ok ok bu ah no ah no ah no ah no ah 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 per zoomare il grilletto vero? no no non si zumba si vedeva bene ehi mummia che c'era qua dietro? c'erano un po' tutti le dietro si, quello mi forse di spostare a destra e a sinistra no, c'erano io a Labico, erano in due ah, dove è che mi spostavo a terra? stavano le ferie già fa no, ci siamo stati a Labico, uno a destra e uno a sinistra uno dei due, uno dei due non so chi io ero caricato a terra e sparava 2-3 metri sopra di me sull'alto